Ciao, sono Federica, ho 26 anni e sono residente a Londra, ma originaria di Salerno. Io sono qui da 4 anni e sono sempre stata appassionata di Londra, ma diciamo che ultimamente non condivido troppo quello che sta succedendo fuori dalla mia finestra e porta. Poiché siamo lasciati totalmente a noi stessi, la gente gira senza mascherina e non ci sono protezioni. La gente gira ammastata in metropolitana, continua ad andare a lavorare, ad andare nei centri commerciali, a scuola. I supermercati sono vuoti perché la gente percepisce il panico, però il governo non sta facendo assolutamente nulla. Noi siamo in perenne contatto con la Farnesina, ad oggi la Farnesina ci chiede di ritornare, però chiaramente noi qui siamo impegnati con il lavoro e quindi comunque abbiamo i nostri impegni. Ed è una situazione davvero difficile, non piacevole, siamo lontani da casa, spaventati, con la paura di contagiarci a vicenda, che è quello che vuole il governo di Boris Johnson. E quindi niente, siamo qui, nelle mani di chissà chi. E niente, questo.